L'Italia in testa, la Romagna nel cuore, lo slogan della festa della Lega Nord a Cervia. Ad organizzarla il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone. La Romagna nel cuore, la Romagna nel cuore. Iniziamo col botto, con Matteo Salvini, col capo, col misto dell'interno. Se voglia di cambiamento, penso che le persone, l'entusiasmo, la passione e il cuore che si respira stasera sia un indice di gradimento che ha la Lega e che ha il governo in questo momento. Quindi siamo propositivi, anche a fronte delle prossime regionali, noi siamo pronti. Parlando con la gente, vuole dei sì, si è un po' stancata dei no dei 5 Stelle. Noi siamo dei sì, ma siamo soprattutto del fare. Ci diamo da fare, abbiamo portato grandi risultati, sono numeri, codice rosso, rito abbreviato, decreto sicurezza 1, decreto sicurezza 2, siamo cose concrete. A volte la stampa enfatizza un po' alcune criticità, alcune divisioni, però noi siamo la Lega, non andiamo avanti. I risultati ci danno sempre più un gradimento maggiore, quindi andiamo per questa strada. Domani salirà sul palco Lucia Borgonzoni. Domani c'è Lucia, un grande in bocca al lupo, una grande donna, un'amica speciale e speriamo, andiamo avanti.